ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video vi spiego cosa è successo praticamente nell'altro video vi avevo detto che avevo fatto uno speciale 5 iscritti ok che poi pensavo che durava un'ora e mezza ma c'era un limite di tempo scoperto quindi non ce l'ho fatta fare quindi faremo solo un video purtroppo su rocket league che durerà però mezz'ora comunque ok raga ok allora si sta caricando il gioco a samuel ok mannaggia al video mannaggia ho buttato un video di fall guys purtroppo si ho buttato un video di fall guys mannaggia o controllo se almeno mi ha registrato il video di fortnite non posso perché sennò devo interrompere la registrazione e non ho voglia quindi samuel ci sei samuel samuel ma porca samuel appunto intanto cosa giochiamo io tu no aspetta non lo so mi sa te controlla si sei te che mi hai invitato metti su gioca e metti incontri personalizzati si si intanto si crea si ok vai mi si sta caricando pure a me quindi ho un buon segno e andiamo acqua io vado nell'arancione tu vai nel blu ok chi è che ha messo chi mi ha ricrollato nooo nulla mannaggia che scarso che sono ma io no io in merita no nooo 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 goooool let's go 1 a 0 pieno 200 segnato che pro vai vai non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito oh no no ma vai il tiro gol 2 a 0 pieno 200 segna ancora Che gol Sotto l'incrocio Dimmi Vabbè finisci la partita Mannaggia Aiuto No No mannaggia No Se n'è andato Nico E' andato Nico Ho fatto gol comunque Ma te sei Ci sei te Samyullo almeno Come 32 minuti Ma io non posso aspettare così tanto No no dove andare a banciare Eh non posso aspettare 32 minuti Ok ciao Eh Se no raga Cioè Capite Allora facciamo Rissa Ok Intanto allenamento Voglio fare attaccante Ruki Ma no pro Io sono un pro Ok Che schifo Vai Cos'è ottagono Ma Non l'ho mai vista sta mappa raga Che bella Giuro raga mai vista Strana Vai Ok Vai No Mannaggia Tiro Tiro Nessun Peppe Boom Ti è Aiuto No Quasi Oddio Che non ci credono Che infame Che mi ha rubato il gol Lo facevo io Guarda Guardate Facciamo un gol così Guardate Che bello Però invece lui Lui Quell'infame di Ghostman Lo voglio fare io Stavolta No Ok Meno male che abbiamo Portiere serio Boom Oddio Oddio Vai Oh bravo Chi è stato Il bambino Bravo Ma io faccio così Ma io faccio così Vai Vai Dì Oh Tiro No, 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 no No, no, no No, 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 no Porco schifo che gol Running is here Sì Vabbè Vabbè è uguale no Oh boom Vuole subito provare con il tiro Prova subito Niente Oh Mi ha rovinato la macchina Oh ma Male No No Sì che cavolo Mannaggia Ma 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 Ok Almeno non ha fatto gol Vai Boom Ok Dovevo usare il momento giusto per prenderla O qua Aspetta Aspetta No Ma che la voglio prendere Dai Aia Ma adesso sono un shard Boom Boom No 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 bravo No 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 bravo Dai Roma Dai Grazie Mi ha rovesciato un cristiano penaldo Mi ha rovesciato un cristiano penaldo Aia Aia Tallone No No Non puoi finire così Aia Aiuto No 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 ah raga vi ho detto io che doveva durare mezz'ora questo video no? ecco vi spiego perché non lo devo chiudere qua perché io ho delle cose da fare ok? un attimo quindi poi devo andare anche a dormire ok? quindi raga vi do un bel salutone iscrivetevi al canale lasciate like per supportarmi e ragazzi ciao